benvenuti e ben ritrovati a tutti alla visione di questo nuovo video qui intendo presentare un orologio che sta facendo parlare di sé già da diversi anni dal cui io non mi sono mai occupato che il trilob la noi fantastica andiamo a vedere di cosa si tratta anzitutto alcune notizie questa casa è stata fondata nel 2013 cioè nel 2013 ha aperto l'azienda punto trilob a parigi fondata da un dirigente dell'industria chiamato massonò il quale si era stancato dei soliti orologi a trasferi e voleva una lettura dell'ora indipendente nel 2018 presentano il loro primo modello quindi siamo già a quattro anni di produzione del trilob che per qualcuno compreso di chi sarebbe diciamo così l'espressione più significativa dell'orologeria francese io dico può essere ma mi ricordo che ci sono anche degli altri indipendenti come coionna per esempio di cui non sento più parlare da un po ma che sicuramente sono ancora in attività e non fanno cose banali ma andiamo a vedere a descrivere l'orologio ecco qui il trilob in questa versione con quadrante sabbiato grenet color salmone ma vediamo com'è la lettura dell'ora che è fatta di niente sfere ma di solo dischi che ruotano tutti in senso anti orario con continuità quindi l'anello più esterno è quello delle ore e ruota in senso anti orario e l'indice è quel trifoglio stilizzato che si vede a ore 12 poi abbiamo una forma ad otto con due aperture una più piccola che indica i minuti sempre in senso anti orario e una più grande che indica i secondi da notare che il metallo sul quadrante è rifinito ad anglage dicono a mano da trilob spero che sia così e ora vediamo il calibro il calibro viene costruito e ideato a lasciò fond presso le cirque del solo roger le cirque del solo roger non lo pronuncio bene questo è sicuro scusatemi si tratta di un calibro molto interessante perché è un calibro con micro rotoli in tungsteno e anche se il quadrante ha una disposizione eccentrica sul fondello abbiamo invece una linea fra il micro rotore bariletto e lo scappamento noi possiamo anche vedere che le superfici sono micropallinate e hanno un colore piuttosto scuro anche se nella prima foto sembra chiaro ma in realtà è scuro ed è tutto micropallinato e anche lì ci sono finiture lucidature con diamante con pasta diamantata e ci sono finiture dei ruotismi con anglage quindi e anche lì si parla di molto lavoro manuale di finitura quindi davvero tanta roba e ruotismi risaltano sul fondo micro pallinato gotti e massono il titolare è d'altronde figlio di un architetto di un interior design e quindi ti ha voluto per il calibro questa immagine questo disegno del costruttivo cioè destrutturato ecco tipico dell'architettura contemporanea questo orologio è disponibile con quadrante di vari colori e con due materiali di cassa o acciaio o titanio in entrambe le misure 38,5 45 40,5 millimetri di diametro lo spessore della cassa di soli 9,2 millimetri e ora veniamo all'aspetto ancora più interessante cioè il prezzo perché il prezzo io vi posso dire in dollari è per le versioni acciaio 8 mila 800 dollari e per le quindi negli stati uniti per le versioni in titanio 9 mila 900 dollari cioè sotto i 10 mila dollari abbiamo un calibro di alto orologeria con finiture manuali e comunque proprietario fatto in swizzera e con una lettura alternativa dell'ora anche se presentata con disegno innovativo ma non tecnicamente particolarmente innovativa è una proposta interessante ne concludo il video spero che sia stato di vostro interesse era impossibile continuare a non parlare di trilob sono lieto di averlo fatto vi ringrazio mettete like iscrivetevi e al prossimo video ciao ciao